potente appara ragazzi quark sono giungato sono qui a presentarvi su un nuovo video e ragazzi questo qua è un nuovo video non particolare perchè appunto è uno di quei pack opening che appunto vi avevo promesso di caricare durante il team update quindi eccoci qua come vedete ragazzi oggi il pack opening sarà abbastanza rigoroso se si può così dire perchè? perchè ho 106.000 crediti quindi non posso abbondare i miei pacchetti appunto spenderò tutti questi crediti e quindi questo pack opening avrà una determinata fine quindi in che senso aprirò due pacchetti da 25.000 e poi un 3 si spera 4 da 15.000 quindi una cosa abbastanza tattica devo dire quindi possiamo già partire no vi ricordo di passare la fila quando siete interessati a comprare crediti di FIFA e ditemi anche no non forse che video vorreste vedere domani e vi chiedo appunto manca di non chiedermi il pink pale perchè appunto adesso devo vedere se scommetto l'ultimo video perchè appunto se lo perdo non potrò giocare contro Gabbo quando giocherò contro Gabbo lunedì alle 9 madonna ci sarà il grande match ma non di Rocky Balboa contro De Niro e si stellone 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 contro De Niro ben si di Gabbo contro Axel quindi appunto chiedetemi qualcos'altro che non sia pack opening e potricite la palla quindi alla fine le alternative non sono molte e se volete uno squad builder scrivetemi di che squadra vorreste uno squad builder detto questo ragazzi io credo che possiamo anche iniziare e iniziamo subito sono usciti i centrocampisti questo è il mio primo pacchetto per i centrocampisti questo perchè perchè ragazzi io ho delle carte di xbox che utilizzerò quando usciranno gli attaccanti e vediamo subito questo primo pacchetto saltiamo che bello Gonzales Spolli madonna quanto becca e Gonz abbiamo trovato due Gonzales altro che troverà una leggenda noi troviamo due Gonzales non doppioni nello stesso pacchetto cioè è chiedere troppo quindi il primo pacchetto è andato malissimo come vedete la mia fortuna è alta appala proprio e andiamo avanti abbiamo questo qua siamo sicuri che sia quello giusto noi siamo sicuri però no dato che l'altro pacchetto era brutterrimo noi cosa dobbiamo fare noi cosa avere che fare noi dobbiamo uscire andare su vedi pacchetti poi andare nei pacchetti speciali perchè se vi escono pacchetti brutti voi dovete andare indietro poveri di andarci sopra e riuscirà per forza qualcosa di bello infatti noi vediamo ora fatemi chiudere gli occhi per favore non gli aspettiamo io voglio non guardo voi sapete cosa mi è uscito alzo la testa ma io ora entri in forma io ora entri in forma sul punto di domanda a me sembrava che ma che schifo 4000 credit yeee ma io pensavo che io niente fosse in foo ma che schifo scandaloso però riuscirò a dovere quattro pacchetti da quindici gattas quindi una cosa abbastanza tattitosa però questo pacchetto è buono me lo sento inside quindi noi ora giampiamo noi dobbiamo giampare a poi ragazzi vi devo far vedere una cosa vedete lì che c'è il magico quadro lì c'è la mia cartella e dovete vedere chi c'è lì sotto anzi prima guardiamo che troviamo ogni settimana è in forma l'unica volta che lo trovo io non è in forma comunque guardate un po' chi c'è perché ci porterà fortuna allora sotto la mia giacca si nasconde lui ciao vieni qua abbiamo un pacchetto stai qua ad aprire un pacchetto questo qua è stato abbastanza voi non lo vedete ora si aspetta Fulce fermo devi stare qua devo allontanare un attimo così lo vedete abbiamo un pacchetto con il mio gatto Fulce dimmi tu dimmi tu quale il prossimo si il prossimo quindi noi appena andremo ad aprire il primo no vuole il secondo vuole il primo scusate dai Fulce torniamo a cosa lui mi ammianzano lo so dai Fulce dai Fulce portiamoti davanti dai Fulce via dai Adebayor si ciao basta ora mi fa compaglia perché abbiamo trovato Adebayor però io non so se aspettate qua non so se cambia molto aspettate un secondo si forse no non cambia niente però quindi oh in questo va come mi dovrò urlare e mi sento anche fuori da finestra dai Fulce via guarda guarda il pubblico è emozionato è timido è timido non vuole guardarmi abbiamo ancora due pacchetti da aprire due pacchetti da aprire dobbiamo prenderli va bene va bene lo dice anche lui primo pacchetto stai qua messi apriamo messi Fulce apriamo messi e vedi mettiamo in posizione sexy messi 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 aia iniziamo a mordere aia madere mi ha zannato Baines e nient'altro che schifo Fulce e beh ma beh dai ultimo pacchetto a disposizione ultimo pacchetto col naso col naso dai oh uno dai dai intanto vi ringrazio per tutti che mi piace messi in quale di noi e speriamo di raggiungere anche qua in questo video 1500 quindi è un messaggio subliminale mi mettete mi piace e andiamo a vedere l'ultimo pacchetto col naso come sempre madonna zitti non ne ho guardiamo noi non guardiamo ho chiusissimi gli occhi posso aprirli non ancora ho sentito il rumorino tattico e li apriamo dai ma che schifo dio santo beh ma beh 100.000 buttati nel cesso che schifo con 6 apro anche quello da 6000 da 5000 da 5000 non esiste da 5000 oggi proprio ci spacchiamo vediamo magari è questo quello che si fa ratturare i riberi questo lo guardo dai jumpa che schifo beh comunque ragazzi detto questo per il video vi sia piaciuto non ho trovato niente sono abbastanza fortunato lasciate un mi piace solo per la mia fortuna quindi ragazzi detto questo io vi saluto e vi dico potente a parla del senere nel prossimo video bolla